Buongiorno per Tolmezzo News, siamo qui assieme a due ospiti, Fabio Troiero che è componente dell'osservatorio provinciale sui rifiuti e Marco Lepre rappresentante di Lega Ambiente. Siamo qui per parlare di rifiuti in carnia, del loro trattamento e lo facciamo al termine di una settimana che è stata tenuta da Lega Ambiente sulla settimana europea della riduzione dei rifiuti. Prima di cominciare a parlare di questo chiediamo a Troiero il perché ci troviamo in questo posto, innanzitutto dove siamo? Siamo in località Vinadia, tra i comuni di Tolmezzo e Villa Santina dove sorge ancora lo stabile che doveva fungere da centro di trattamento dei rifiuti solidi urbani per tutta la zona della Carnia Alto Friuli, così nei suoi intendimenti iniziali. Come potete vedere purtroppo sono diversi anni che l'impianto è chiuso nonostante ingenti investimenti e così è un po' una sconfitta per la Carnia. Perché per chiudere sinteticamente la Carnia è sempre stata all'avanguardia nel trattamento di questo tipo di problema, aveva già iniziato nei primi anni 70 con la realizzazione di un inceneritore, purtroppo ai tempi la tecnologia era così poco avanzata per cui dopo si è passati a un impianto di trattamento, anche questo all'avanguardia per i tempi, però negli anni non si è riusciti ad adeguare la resigenza nuova, per cui c'è questa cattedrale lasciata un po' a sé. Passiamo la parola adesso a Marco Lepre che può riprendere da queste osservazioni e poi anche cominciare ad accenarci qual è stato il bilancio di questa settimana e i problemi chiaramente a Monte. Sì, come giustamente diceva Fabio, questo che vedete alle nostre spalle è stato inaugurato nel 1984 dal loro Ministro dell'Ecologia Alfredo Biondi, è stato il primo impianto di compostaggio realizzato nella nostra regione. È stato poi il prototipo perché sono seguiti sempre realizzati dalla Danneco, del gruppo Danieli, quello di San Giorgio di Nogaro che serve tuttora alla bassa friulana e quello l'impianto di Viagonar Saudine che è tuttora in funzione. Ed è stato un impianto che veniva all'epoca visitato da amministratori scolaresche che venivano un po' da tutta Italia perché era stato presentato come la soluzione definitiva al problema del trattamento dei rifiuti. Erano tempi in cui si era all'inizio anche della legislazione, era appena entrata in vigore il DPR 915 nel 1982, quindi effettivamente la carne si trovava all'avanguardia rispetto al resto del paese ed erano tempi in cui non si parlava di raccolta differenziata, per cui il funzionamento di questo impianto prevedeva con quello che poi si è dimostrato anche un grosso consumo di energia un tentativo di separare i rifiuti che venivano mescolati normalmente nei cassonetti nelle varie componenti, la frazione organica che doveva servire a produrre del concime, il famoso compost, la parte con più potere calorifico, cioè le plastiche, la carta e il legno che doveva trasformarsi in un combustibile solido, il cosiddetto RDF, che oggi si chiama anche CDR, e poi doveva esserci una minima parte che finiva in discarica. Purtroppo la realtà ha dimostrato nel giro di pochi anni che questo impianto non era la soluzione definitiva, nel senso che sembrava che non ci servissero neanche le discariche. Una discarica è stata realizzata poco tempo dopo qua a Monte della Confluenza della Vinadia nel tagliamento, una discarica che doveva durare almeno 5 o 6 anni, che si è riempita in un anno e mezzo o due, perché? Perché i prodotti di questo impianto di trattamento dei rifiuti, cioè il compost e l'RDF, in realtà non sono serviti per abbassare i costi di gestione, quindi non sono stati venduti ai contadini, uno è utilizzato per produrre energia elettrica, l'altro, ma sono finiti prima o poi in discarico, con grave costo per i nostri comuni e anche per i nostri cittadini. Diceva Fabio che in realtà la carne è rimasta all'avanguardia nel trattamento della questione dei rifiuti, anche perché sulla base dell'esperienza che è nata proprio 20 anni fa a Caneva, da parte del comitato nato contro la discarica, c'è stata la prima sperimentazione, il primo progetto pilota di raccolta differenziata, che è partito non da enti pubblici, ma proprio da un gruppo di cittadini, da un comitato e questo è servito poi come esempio per i comuni, anche per lo stesso comunito e mezzo che voglio ricordare nel 1996, era i vertici nazionali nella raccolta differenziata pro capite della carta. Anche grazie a un assessore che si chiamava Marco Lepre, bisogna ricordarlo. Beh qui adesso non siamo ad attribuire medaglie, però ci interessa più che altro capire come partendo da quel dato lì, si sia arrivati adesso a dati che raccontano una situazione totalmente diversa, della quale sono responsabili ovviamente, se si può chiamare di responsabilità, amministrazioni anche bipartisan, mi pare. Esatto, i dati magari poi ve li dirà nel dettaglio Fabio Troiro che fa parte appunto dell'osservatorio provinciale sui rifiuti. Quello che probabilmente molti cittadini non sanno è che non solo la Carnia è rimasta sostanzialmente ferma, mentre tutti gli altri ne andavano avanti perché la raccolta differenziata, soprattutto con l'introduzione di porta a porta ha fatto dei passi da gigante in quasi tutta Italia. Ma molti pensano che comunque rispetto a certe realtà meridionali che sono abbassate le cronache circa un anno fa, parliamo di Napoli, della campagna, di questi rifiuti accumulati per le strade, molti pensano che comunque la Carnia sia meglio come raccolta differenziata di quella realtà. Purtroppo abbiamo verificato che le cose non stanno proprio così e che gli obiettivi soprattutto fissati dalla legge ancora nel 2003, cioè il 35% di raccolta differenziata, nel 2008 non era stato raggiunto ancora da nessun comune della Carnia. Quindi siamo in un notevole ritardo e teniamo conto che per il 2012 l'obiettivo è quello di arrivare al 65% di raccolta differenziata.